Buongiorno, mi chiamo Valerio Deo, sono un critico d'arte, direttore del Museo di Merano Arte e oggi devo parlare di Bruno Pinto che è un artista che avete già conosciuto sicuramente ed è un artista a cui sono particolarmente legato. Intanto voglio presentarmi brevemente perché io sono di quelli storici dell'arte che provengono dalla filosofia, dall'estetica e quindi ho un approccio al lavoro degli artisti molto attento e anche un approccio al pensiero degli artisti. Tante volte le opere d'arte vengono giudicate semplicemente dalla loro forma, da come appaiono. Invece, soprattutto il novecento è un secolo che ci ha abituato alla profondità, a non dare mai niente di scontato. Ecco, arrivare all'arte contemporanea attraverso la filosofia e attraverso l'estetica è un approccio che ci fa percepire le opere d'arte come una parte del pensiero contemporaneo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando abbiamo davanti un quadro, non abbiamo semplicemente davanti un quadro, abbiamo davanti un discorso di approfondimento sul mondo, sulla realtà, da parte di quel determinato artista. Quando si lavora molto con gli artisti è molto importante cercare di penetrarne proprio questo, cioè proprio il pensiero. Ecco, un artista come Bruno Pinto è esattamente un artista di quelli che costantemente ha irrorato la sua opera di idee, di pensiero. Non a caso nel corso della sua lunga attività ha frequentato filosofi importanti, cito uno per tutti, Massimo Cacciani, che sicuramente tutti conoscono. E quindi capite che penetrare il lavoro di Bruno Pinto è importante entrare dentro il suo mondo, entrare dentro anche il suo linguaggio, ma soprattutto cercare di capire qual è il pensiero che ne è all'origine. Noi qui abbiamo diverse opere del maestro, per informazioni potete ovviamente contattare sempre il numero in sovrimpressione, e io partirei proprio dai suoi lavori per entrare dentro il suo mondo. L'altra parte, le opere sono, alla fine, sono poi come delle finestre, cioè sono delle, come dire, sono dei diaframmi attraverso cui entrare nell'universo degli artisti. Ecco, uno degli artisti di riferimento per Bruno Pinto è sempre stato Cézanne. Ma come direte voi, Cézanne, che è un artista che i manuali di storia dell'arte definiscono giustamente un post impressionista, perché è come mai un artista come Cézanne? Se poi Cézanne comunque lavorava in un ambito di tipo ancora figurativo. Cioè, voi vedete un quadro di Cézanne, tipo, non so, la Montagne Saint-Victoire, e avete davanti comunque una montagna, anche se dipinta in un modo estremamente particolare. Ecco, Bruno Pinto ha cercato di entrare e di interpretare proprio lo spirito di Cézanne, che era quello non di lavorare sulla rappresentazione, quindi non di fermarsi a ciò che si vede, ma di costruire un'opera, costruire un quadro, a partire dalla sua intima essenza, e di dare alla materia pittorica un senso di vita, un senso di crescita. Questo è un aspetto estremamente importante. Un'opera come questa, un quadro come questo di Bruno Pinto, vedete che è, come dire, scandito in varie unità. Cioè, le opere di Pinto hanno una particolarità, non sono delle opere, sono delle opere che, certo, hanno una loro visione d'assieme, anche le opere molto grandi. Tenete presente che il maestro Bruno Pinto lavora anche su formati extra large, su opere di 3-4 metri. Qui abbiamo comunque delle opere che lo rappresentano perfettamente, ma sono di carattere più misurato, sono più a, come dire, sono più legate alla portabilità, all'esposizione all'interno di un ambiente domestico. Vedete, un quadro di questo tipo è in fondo, come dire, l'emblema di quello che è tutto il lavoro di Bruno Pinto. Perché? Perché da un lato abbiamo delle aree che sono quasi dei quadri nei quadri. Cioè, se noi andassimo a prendere, a scandire questa superficie, a tagliarla in varie sezioni, noi avremmo degli altri opere. Una caratteristica proprio del lavoro di Bruno Pinto è quella di possedere sia una visione d'assieme dell'opera e sia del creare delle unità, dei nuclei, che si fondono insieme, ma nello stesso tempo continuano a possedere la loro indipendenza. Poi in quest'opera voi trovate anche che cosa? Beh, trovate per esempio questo rapporto che c'è fra il colore, che è nella parte qui, nella parte qui in basso, in questo caso è un colore molto fluido, rosso e blu, mentre la parte superiore è una parte molto informe, cioè non ha ancora una sorta di... è come se fossi in attesa di una forma. Ecco, questa è un'attesa. E nello stesso tempo l'artista ha creato cosa? Ha creato una forte tensione fra la parte colorata, diciamo, alla base dell'opera e questa parte superiore. C'è anche il rapporto fra colore e non colore. Questa è un'altra caratteristica di Bruno Pinto. Colore e non colore. L'arte non ha spesso bisogno di essere estremamente ricca di colori, non deve essere assolutamente un qualcosa che debba piacere subito. Spesso il limite del colore è quello di essere piacevole. Noi spesso invece dobbiamo porre l'accento sul fatto che un'opera d'arte deve essere guardata a lungo nel tempo. Chi acquista un'opera d'arte, chi ha il piacere di possederla, la vuole guardare non soltanto per un mese o un anno, la vuole guardare per sempre. Ecco, un lavoro come quello di Bruno Pinto è esattamente un lavoro che ci dà questa percezione. Guardate anche la ricchezza dei materiali usati. Bruno Pinto usa materiali compositi. Non è un artista che usa semplicemente il colore piatto, le campiture uniformi, ma è un artista che usa dei materiali recuperati. Usa proprio, come dire, anche dei cartoni recuperati in giro, andando in giro nelle città. Cioè, è ancora una volta l'idea del recupero, l'idea della trasformazione, l'idea di prendere qualcosa dal mondo del rifiuto e di portarlo dentro il mondo dell'arte. Questo tipo di materia è una materia viva, è una materia pulsante. L'idea stessa di mescolarla con dei frammenti di specchio, che sicuramente riuscite a vedere, ecco, l'idea del frammento di specchio è da un lato il tentativo riuscito di portare dentro l'opera d'arte chi? Beh, l'osservatore, noi. Noi siamo di fronte a un'opera d'arte e l'idea della specularità è un qualcosa che ci porta ancora di più dentro il lavoro. È un attrattore. Ci sentiamo portati dentro, ci siamo portati verso il centro dell'opera. Quindi capite bene che questo lavoro è un lavoro pensato e voluto dall'artista non soltanto in un'ottica di un recupero dei materiali, ma anche nell'ottica di creare un collegamento fra l'osservatore e l'opera. Gli specchi, sapete bene che c'è stato un artista, un grande artista come Michelangelo Pistoletto che ha usato gli specchi proprio come suo marchio, cioè proprio come sua caratteristica per eccellenza. In questo caso lo specchio però è un frammento. in questo caso lo specchio è un qualcosa che deve rimanere allo stato frammentario, non deve dare il senso di una totale specularità. Un altro aspetto interessante poi di Bruno Pinto è questo suo rapporto con il colore. Ecco, sul colore Pinto ha espresso una sorta di rifiuto di quella che è stata la logica dell'arte astratta e penso a Kandinsky. Kandinsky nei primi anni del Novecento scrive lo spirituale nell'arte, cioè comincia a cercare una sorta di grammatica della visione artistica, quindi cercare di mettere insieme non soltanto il colore come lo vediamo ma anche la forma perché il colore varia molto a seconda della forma che lo contiene e il colore dipende anche da che cosa? Dipende anche moltissimo dalla materia sulla quale è impresso. Quindi capite bene che l'opera dipinto quando manifesta si manifesta attraverso questa forma colorata è comunque un'opera che non va mai alla ricerca di costanti ma ogni volta si rinnova e caratteristica di Bruno Pinto di non ripetersi anche quando ci sono delle opere che possono mostrare delle similitudini lui continuamente accresce il suo vocabolario la cosa che lui ha sempre rifiutato è lo stile lo stile è la ripetizione lo stile è trovare un modo per farsi conoscere e conoscersi e ripeterlo lo stile è quando un pittore trova un modo per rappresentare una figura funziona nel mondo dell'arte viene ben accettata anche magari dal pubblico e l'artista continua a ripetersi continuamente ecco questo con Bruno Pinto non è mai successo non solo non è mai successo ma una parola chiave per capire il lavoro di Bruno Pinto è quello di autenticità e che cosa è l'autenticità l'autenticità è la fedeltà a se stessi la fedeltà di Pinto a se stesso vuol dire che la sua idea dell'arte che è una forma di conoscenza per Bruno Pinto quindi non è soltanto un modo banale di esprimersi di buttare fuori qualcosa che si ha dentro ma è un modo per conoscere il mondo è un modo per conoscere la realtà e il tramite che c'è fra noi e la realtà è quella che lui chiama giustamente la volontà cioè l'uomo ha una grande differenza ha una grande differenza nei confronti degli altri esseri e soprattutto ha la capacità di affinare questa volontà e di farla diventare qualcosa di fondamentale per la sua crescita e allora il colore vedete è un colore magistrale qui abbiamo delle opere questa è un'opera straordinaria dove vedete che c'è anche un accenno di figurazione perché Bruno Pinto non ha mai rifiutato la figura cioè è un artista astratto ma non è un artista astratto che ha dei pregiudizi nei confronti della della pittura figurativa tant'è vero che c'è tutta una parte del lavoro di Bruno Pinto che è legata soprattutto alle carte sono tutte legate proprio al disegno sono tutte legate al disegno sono tutte legate alla figura ancora alla figura umana qui vedete che questo accenno di figura è un accenno che si staglia su una superficie estremamente materica ma anche una superficie che è fatta proprio di strati di profondità questa è la ricerca la ricerca di Bruno Pinto e fate conto anche tenete presente anche una cosa che ogni quadro che che lui realizza è un quadro che ha una sua temporalità estremamente espansa cioè come dire il tempo che lui impiega a realizzare un'opera è un tempo indefinito su questo su questo aspetto tutti gli artisti hanno sempre manifestato come dire la propria opinione perché quanto tempo ci vuole per fare un'opera d'arte cioè noi che siamo fuori che non realizziamo le opere non possiamo tante volte farcene un'idea quanto tempo ci vuole a realizzare un quadro così o un quadro come questo anche un quadro che può avere una sua magari semplicità rispetto agli altri c'ha meno complessità ma quanto tempo ci vuole ecco tenete presente che un quadro per Bruno Pinto praticamente non è mai finito non è mai terminato cioè lui continua a lavorare sulle sue opere nel tempo vedete tutti questi dettagli cioè guardate guardate semplicemente dei dettagli straordinari di questo tipo o guardate questa quest'area qui come lui non soltanto prima ha creato una forma ma poi è riuscito ad andarci dentro e a creare questo queste striature questo reticolo che sembra come dire sembra veramente materia vivente o guardate semplicemente un taglio di questo tipo cioè quando un artista realizza dei dettagli di questo tipo cioè quando realizza questi particolari riesce a rendere il particolare praticamente una sorta di punto di focus dell'opera stessa cioè nasce vedete anche qui vedete come qui c'è una una linea che poi è come se riprendesse si spezzasse e riprendesse verso il bordo del quadro ecco l'idea di un artista come Pinto è che l'opera essendo materia vivente non può essere chiusa congedata congelata magari e consegnata come dire all'archivio per questo è un artista molto complesso ma vedete come da un certo punto di vista questa complessità che non è una complessità falsa come o ricercata o artificiosa è una complessità che fa parte della intima struttura ed essenza dell'opera in Bruno Pinto si vede proprio perché questa materia continua a crescere è una materia pulsante vivente mi ripeto per questo il problema di quando un'opera poi può dirsi terminata gli acquarellisti inglesi usavano una battuta dicevano l'opera è terminata quando arriva il compratore e se la porta a casa probabilmente è così cioè probabilmente un'opera è terminata come un romanzo quando l'editore lo pubblica l'opera è finita quando entra in una galleria per per la vendita insomma quindi come dire in questa in questa come dire in questa battuta in questo humor molto britannico alla fine c'è una profonda verità l'opera finisce nel momento in cui esce si stacca dalle mani dell'artista e questo proprio perché è un tipo di lavoro che appartiene talmente intimamente in modo intimo all'artista che l'artista se ne stacca non soltanto a malincuore ma l'artista ci continuerebbe a lavorare Bruno Pinto per dirvi lavora su varie opere contemporaneamente come tutti gli artisti cioè l'artista tende a come dire a non non fissarsi soltanto su un'opera a chiuderla a guardarla da tutti i punti di vista a seguirla in tutti i suoi sviluppi guardate anche anche un lavoro un lavoro di questo tipo un lavoro di questo tipo è un lavoro dove c'è una parte più pittorica e una parte più materica fra questi due blocchi che seguono la diagonale vedete come si avverte proprio l'idea di una pressione di questa parte superiore verso questa parte inferiore che è molto materica ci sono dei legni ci sono dei brandelli di tela c'è anche c'è anche del vetro cioè c'è comunque una materia che in qualche modo si oppone a questa potenza a questa forza quando si parla di Bruno Pinto e si dice che è un artista informale io devo dire che ho personalmente ho molti dubbi a definire l'opera di Bruno Pinto informale anche perché certo lui ha cominciato negli anni 50 quindi quando l'informale era affermato a livello internazionale ma tenete presente che in Bruno Pinto non c'è la velocità il segno come ci può essere nella pittura non so di uno scannavino non c'è per esempio nemmeno la ricerca proprio di far venire fuori dall'inconscio quello che passa nella mente non c'è l'idea dell'urgenza qui non c'è velocità qui non c'è capacità di soffermarsi e di stare come dire e di dare libero sfogo alle proprie energie inconsce qui siamo lontanissimi da Hartung questa è tutta un'altra cosa è un'arte non iconica aniconica come si dice con un termine non bellissimo è parzialmente aniconica ma non c'è nulla che si possa non c'è un'etichetta che si possa avvicinare al lavoro di Bruno Pinto perché lui ha sviluppato un suo percorso totalmente personale fin anche fin dal 1966 quando realizza il ceppo dopo dopo anni di silenzio dopo l'esperienza della valle Bruno Pinto è uno che ogni volta che dipinge rifonda la pittura cioè è uno che pensa alla pittura ogni volta che prende i pennelli raccoglie i materiali li assembla li rivede li riposiziona modifica i colori li associa delle forme cioè è un'operazione continua che è veramente un'operazione di rifondazione continua della pittura per questo mi sembra estremamente semplice da questo punto di vista che è sbrigativo definire questo tipo di pittura informale anche se come dire tante volte le etichette sono dei comodi conforti insomma qualcosa non la capiamo usiamo un'etichetta e allora ci togliamo da un sacco di impecci ecco dobbiamo imparare anche che l'arte del l'arte del novecento è fatta sì di grandi movimenti ma è anche fatta di grandi individualità di grandi personaggi che non sono iscrivibili dentro quel tipo di corrente quel tipo di linguaggio dentro un qualcosa che è inscatolato un autore come Bruno Pinto è un autore totalmente fuori dagli schemi e questo è importante è importante la sua originalità è importante il fatto che tanti critici e direttori di musei se ne siano occupati è importante anche che l'ambiente della pittura mitteleuropea lo stia ampiamente riscoprendo perché è una pittura che va alla ricerca delle origini noi siamo abituati oggi come dire ad una pittura che va molto più spesso alla ricerca di che cosa alla ricerca della sintesi alla ricerca dell'immagine alla ricerca di un qualcosa che tutti capiscono e questo è un retaggio della pittura pop la pittura pop ha creato anche questa questa falsa idea che tutti possono capire l'arte ma anche la pop ha una sua poetica e una sua filosofia che è necessaria per essere compresa dietro una lattina camp c'è un pensiero dietro un quadro rosì c'è un pensiero di profondità straordinaria molti critici hanno parlato di abisso proprio perché è un lavoro che nasce in controtendenza nella seconda metà degli anni 60 Bruno Pinto ha cominciato negli anni a metà degli anni 50 è un artista che ha 82 anni ma nello stesso tempo è un artista che costringe continuamente a portare il problema di che cosa vuol dire fare arte oggi in questo momento e allora capite bene come ogni suo quadro ogni suo quadro è una sorta di avventura ogni suo quadro è una porta ad aprire per entrare in un universo di cui ancora non abbiamo conosciuto bene i limiti grazie a tutti grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti